Ciao ragazzi e ragazzi, bentornati nel canale e anche oggi un'altra giornata di quarantena. Beh vabbè, l'importante è che passerà ragazzi, tutto passa. Allora, abbiamo anche oggi una grazzata mista, abbiamo Fai Scopa New, abbiamo Mama Non Mama, Due Mama Non Mama, Numeri Fortunati e Battaglia Navale. Allora ragazzi, iniziamo subito con il Fai Scopa New, numero 25. Allora, un attimo, ecco qua si vede bene. Ok, e partiamo. Carte sul tavolo, 5 e 2, 7 e 3, 10. Quindi dobbiamo trovare un 10. Prima giocata, 7. Qui proviamo un 4. 5. Qui abbiamo un 3. 9. E un 2. E niente ragazzi, finora niente 10. Andiamo avanti con 5. Qui c'è il 6. 8. Un altro 6. Un altro 8. E ultimo nasso. E niente ragazzi, questo biglietto è perdente. Adesso andiamo col Mama Non Mama, numero 29. Ecco qua, ok. Un attimo solamente che forse si vede poco. Ok, così va meglio. Iniziamo dal piccolo petalo. Qui abbiamo un sole. Pantaloni. Scarpa. Tamburello. Qui c'è la cassetta. Matita. Cuori, nemmeno uno. Colomba. Chitarra. Primo cuore. Disco. Occhiali. Un altro cuore. Un altro cuore, ma non ci facciamo niente. E un altro cuore. Niente ragazzi, 4 cuori. 1, 2, 3, 4, niente. Vediamo il simbolo bonus. Abbiamo un fiore che non vedo, non c'è, non c'è ragazzi. E niente, anche questo biglietto è perdente. Adesso passiamo a numeri fortunati. Numero 2. Allora. Vediamo. Numeri vincenti. 29. 29. 29. Non c'è. Poi abbiamo 78. 78. Eccolo qua. Andiamo avanti con il 37. Eccolo qui. Poi abbiamo 40. Sta qua. 57. 57. Niente, non lo vedo. 26. Eccolo qua. 61. 61. 61. 61. No, non lo vedo. 69. Non c'è nemmeno il 69. 35. 35. Eccolo qua. Poi abbiamo il 30. Ultima colonna. 80. non c'è. Non c'è. 53. Eccolo qua. 45. Niente. Qui 21. Ecco qua. E niente ragazzi, manca il 65, il 12, il 73. Vediamo un attimino. 66. E qui c'è il 65. Ultimo numero. 14. E niente ragazzi, anche questo biglietto è perdente. Allora, l'altro mamma non mamma. Numero 28. Vediamo questo. Allora, simbolo bonus, disco, iniziamo dal primo petalo, cuore, tamburello, stavolta iniziamo da qua, nota, cassetta, face, matita, chitarra. Qui abbiamo un altro cuore, qui un altro cuore ancora, sono tre cuori, farfalla, cuore, roulotte, ne manca un altro cuore, ecco il quinto cuore, quindi il biglietto è vincente, e fotografia. Quindi, ragazzi, abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque cuori, va bene, ok, tre euro, almeno il biglietto non è perdente. Adesso, ragazzi, abbiamo la battaglia navale, numero 53. Allora, ecco qua, sì, qui si vede tutto, ok, ok. Iniziamo con la prima coordinata. B7, B7, eccolo qua, acqua. Andiamo avanti con C2, C2, un pezzetto, poi A7, acqua. B2, altro pezzetto qui. Qui abbiamo H4, 1, 2, 3, 4. Un pezzo, questa è quella grossa, sì. F3, F3, eccolo qua, pezzo, A5, A5, un altro pezzo, F6, acqua, A1, acqua. E niente, se ci facesse finire questa, almeno, allora, oppure questa. E C4, 1, 2, 3, e 4, e niente, ragazzi, acqua. Per il momento, scusate, per il momento questo biglietto è perdente. Vediamo un po', se riusciamo a trovare lo scrigno. Grazie, vediamo. Vediamo, vediamo. Le barchette piccole ce ne erano proprio tante. E niente, ragazzi, mi pare che lo scrigno non ci sia. E niente, ragazzi, niente di niente. E va bene, pazienza. Anche questo biglietto è perdente. Allora, ragazzi, abbiamo grattato tutti questi grattini. Alla fine, l'unico vincente è stato questo. 3 euro, va bene, ragazzi. Purtroppo non possiamo farci niente. Non ci sono dentro i grattini. Quindi, niente, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per i prossimi video. E io vi do un grande bacio e un forte abbraccio. Ciao, ciao. Alla prossima, ragazzi, da Marilena.